Salve, e allora se ci siete qualcuno vorrei presentarvi un progetto interessante che è la storia della sua creazione e del suo sviluppo non so cosa succede a volte e allora questo progetto può fornirci e tra le viaggi l'opportunità di fare la storia attraverso in un progetto ambientale globale e allo stesso tempo creare capitale reale per la tua vita spensierata sono Caterina Datosvili, un curatore dello sviluppo regionale in Italia nel campo dell'implementazione della tecnologia ad alta velocità ho esperienza di lavoro in strutture statali, 15 anni di esperienza nella comunicazione e nella relazione in ambito medico e ho anche 18 anni di gestione di imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi e sono una specialista certificato di lingua italiana livello A2 e anche specialista certificato di mediatore europeo interculturale da 4 anni che sono in Italia e tutta questa attività sto facendo online dal posto di mio lavoro ecco è il progetto di cui parleremo oggi e di proprietà del signor Anatoly Junetsky ha la proprietà intellettuale del suo progetto estimato di 400 miliardi di dollari ed è dopo 45 anni del suo sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda è un progetto che oggi ha le migliori offerte del mercato e allora stesso Anatoly Junetsky è un scienziatore e un inventore di altri 200 articoli scientifici 20 monografi e più di 150 invenzioni nel campo delle industrie delle costruzioni, dei trasporti, dell'energia meccanica, elettronica e chimica è un sviluppatore di numeri progetti di infrastrutture, di trasporto basati su sistemi di trasporto spaziale e geospaziale nonché tecnologia di stringa è anche responsabile di due progetti membro della federazione cosmonautica negli anni 1998 e 2002 è un proteggista generale di UST UNESCO String Technology e infrontatore del gruppo ISL e con la filosofia di creazione questo trasporto c'era che il trasporto al solito dovrebbe risolvere a maggior parte dei problemi e non dovrebbe essere la loro fonte della loro generazione i mezzi di UST si prosteranno infatti su uno speciale cavalcavia a fune rotaia fuori terra e ottimizzando l'aerodinamica ha aumentato la velocità garantendo una sicurezza senza precedenti è un uso razionale del territorio e delle risorse minimizzando l'imparato dei trasporti sull'ambiente e tuttavia questo costo di costruzione e funzionamento è molto inferiore rispetto alle soluzioni di trasporto disponibili per oggi ecco anche la costruzione della struttura linea sky si richiede meno denaro quindi rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto e allora quando devi costruire questa costruzione distingua devi ti servono consumi allora 20-25 meno fin uvi perché noi non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio versare acqua per esempio rompere le rocce per costruire questa strada sono necessari solo i soliti supporti con un binario di fune per viaggiare su Sky Transport e fornire servizi di consegna con un trasporto più veloce ecco allora ci sono tre tipi di passacorde ridici semiridici ed elastici e ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario e come sappiamo quando un auto accelera ad alta velocità deve fare i conti con l'aria di frutto l'aria di narivo con il flutto d'aria in narivo scusa si chiama resistenza aerodinamica e il nostro transport Sky è mille volte più facile da gestire e grazie allo scafo affilato è in grado di raggiungere velocità di 500 chilometri e implementando questa tecnologia in Italia penso che darà possibilità ai visitatori anche per i tutti italiani a trovare tutta la panoramica della tutta l'Italia e godire con questa bellezza allora da parte per esempio per me era molto emozionato quando mi hanno aperto essere un membro di questa azienda quindi una grande felicità e orgogliosamente vi posso offrire un progetto così utile per i tutti per tutti i formi della vita in questo pianeta ecco e allora implementando questo progetto possiamo migliorare molte aree di servizio muoverci molto più velocemente portiamo con noi i ratei dei dividenti e viaggiamo in Italia o in qualsiasi paese sognato in pratica si a questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e anche ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria penso queste cose sono molto necessarie e dopo pandemia covid-19 già ci ha mostrato i nostri problemi come abbiamo avuto danneggiato la natura per cui SkyTrasport è diventato trasporto più richiesto più necessario nella storia di esistenza umana ecco ogni partner della società UST è in una posizione redditizia qui è possibile firmare un successore e anche ricevere entrare aggiuntive dal programma di partnership e di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessati il vantaggio del pacino della nostra azienda sta nel fatto che è una forte unione di persone con obiettivi e valori comuni i rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che è già diventato un processo irreversibile e di cui parlano i progetti già realizzati pianificati e firmati e dove è realizzato già questo progetto si vede quanto è pulita l'atmosfera e anche la società Skyward Community è stata registrata in Inghilterra in Isola Vergine come società europea nel 2014 pertanto i diritti del single co-partner sono scritti e tutelati dalla normativa europea inoltre l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese al indirizzo indicato e dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi e ad oggi siamo già spostati alla quindicesima fase e dopo che dopo il completamento della quindicesima fase si sta già spostando sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando alla maturazione dei dividendi e anche per realizzare questi progetti oggi funzionano e ci sono anche c'è un stabilimento di produzione un centro di innovazione in Sharjah e Minsk dove lavorano 3.000 ingegneri istruttori esperti che gestiscono ogni dettaglio del trasporto di futuro con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia e l'Eco Tecnopark è stato realizzato in Inglatera in Belarussia e anche nella città di Marina Gorga e negli Emirati Arabi Unity in particolare nella città di Sharjah nel centro di innovazione attorno all'università americana dove è già possibile visitarli in Inglatera già era registrata dopo è realizzata in Belarussia e negli Emirati Arabi Unity Allora all'università americana dell'Emirati Arabi c'è una linea di prova del nostro trasporto e che opera 15 km intorno all'università questa distanza comprende 21 stazioni e ogni visitatore può sperimentare il conforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto stringa del futuro ecco e ora ti dico da dove prendiamo esattamente i nostri benefici ok il 32% della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare con proprietari di tecnologie innovative i pacchetti azionari partono da 50 dollari e arrivano fino a 150 mila dollari a seconda dell'interesse degli azionisti un rappresentante di qualsiasi classe sociale può investire e allora dopo completare vostra registrazione e verificazione sulla piattaforma allora azienda ti offre molte opportunità interessanti per te per la tua famiglia i bimbi studenti per creare il loro futuro e risparmiare ancora di più che potresti immaginare prima ecco è possibile usufruire di rate interne a tasto zero sul pacchetto azionario e non perdere tempo per ottenere maggiori informazioni e fornisci subito al tuo invitato il link di registrazione o fissa un incontro per darti risposte più specifiche nelle direzioni che ti interessa ecco personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120 mila dollari per da soli mila dollari cosa che non avrei potuto fare nella vita reale quindi ma cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra sì e allora in quanti anni potrei risparmiare così tanto è per me che l'azienda UST è diventata il senso e il supporto della mia vita e sempre quando parlo su questo progetto mi sono molto orgogliosa quindi facciamo allora una bella cosa a tutti i rappresentanti di oltre 200 paesi insieme e allora le tecnologie sono sviluppate abbastanza è sicuro che anche avrai una domanda ma perché non usiamo autoibrida ma io ti dico che quando carichi l'autoibrida in pratica devi collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo o a carbone o in un'altra materia che funziona ancora o a carbone o in un'altra materia e prima e quindi crea danni alla natura e non siamo sicuri neanche per il 90% ecco per i propri interessi i propri obiettivi umanità abbiamo danneggiato la natura e i paesaggi stiamo battendo foreste prosciugando fiumi e bacini idrici distruggendo montagne sciogliere e quindi la natura risponde con disastri naturali ecco e noi stiamo partecipando in questo progetto perché vogliamo salvaguardare il destino della nostra pianeta ricordate che i costi operativi sono 25 volte inferiori al trasporto su strada già esistente e la produzione di energia è al minimo perché genera energia più che sufficiente e non dipende alla centrale penso che questo è una cosa velocemente integrabile anche negli anni 70 esistevano tanti problemi di inquinamento e sicurezza e nel 1978 il signor Renato Junetsky scienziato e mentore proteggista dati navi volanti presento il suo primo articolo scientifico tipo dopo cinque anni di ricerca sull'atmosfera che in cinque anni l'atmosfera è stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo questa situazione già esiste durante decenni abbiamo avuto le strade così soprafolate senza sistemazione così tanto inquinamento senza sicurezza e dispendio l'energia con sale allora sappiamo che questo allora questa situazione e ancora oggi sappiamo che le strade sono congestionate d'auto con la loro emissione e possono causare inquinamento e molte malattie e purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere in atto leggi sulla sicurezza che la causa in molti incidenti e Sky Transport può evitare questi incidenti e la presenza di Covid-19 come già ho detto ci ha mostrato la necessità di un trasporto ecologico la circolazione ha causato da decenni problemi strada sovrafolata mancanza di sicurezza e dispendio di energia colossale è rimasto l'ambiente inquinato e questo è il motivo e allora per cui Sky Transport è il trasporto più necessario e più richiesto nella storia dell'esistenza umana e questo non è tutto quando decidi registrati nella nostra azienda e avere i tuoi ratei allora i tuoi profitti i tuoi profitti non posso non dire allora per tutti noi azionisti ci sono molti 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 profitti che dovete avere urgentemente tutti quindi velocemente impiantare questo progetto in Italia e allora noi tutti azionisti abbiamo i dati e i dividenti guadagniamo dal programma di partner a dare o avere l'ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventiamo comproprietario di tecnologie partecipiamo a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu e passiamo anche alla storia come prima troppo e creiamo capitale per una vita spensierata questo è realtà gente ascoltatevi bene e abbiamo la possibilità di viaggiare per raggiungere luoghi molto belli interessanti per te o raggiungere Dubai e non solo Dubai attestato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite quello che è più importante per te che mi senti prima volta il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni e questo ancora non è tutto e ecco impiantando e realizzando questo progetto in Italia crea condizioni più favorevoli in direzione del turismo e utilizzando prodotti e le tecnologie ecologiche è un risparmio per noi e anche per la nostra bellissima pianeta cosa dite e la cosa più importante per te è che ci sia un prodotto reale che puoi visitare toccare e sentire la sua velocità e comodità per te stesso e noi non abbiamo bisogno di paragonare a nessun'altra azienda questo è l'unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti e anche ci sono allora personalmente se dire verità e per i molti partner è diventato ancora più credibile che l'Italia sia tra i 200 paesi partner e l'azienda anche vorrei dirvi che tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo tutti i diritti del comproprietario questo è un grande conforto per noi quindi il produttore e creatore il signor Anatoly Junetsky che presenta una relazione annuale sul lavoro svolto la nostra azienda ha una disposizione del denaro allora per caso se decidi improvvisamente di lasciare azienda ti offre di aggiungere più 4% a determinate condizioni restituire i tuoi soldi come mutuotario questo per cui tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta però questo precedente non è stato finora rilevato quindi quando vengono le persone non è successo mai che qualcuno lascere la nostra azienda quindi noi tutti allora per la nostra partecipazione facciamo una bella cosa per noi per la nostra salute e sopravvivenza e non solo questo allora aumentare qualità della salute e della nostra tutta la vita e lo stesso Anatoly Lunetsky ha già 74 anni ed è sicuro che a 1000% che tutto questo si arriverà dappertutto nel mondo nel corso della sua vita quindi questo trasporto è progetto come progetto è semplicemente integrabile e lui non ha rifiutato realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo e ha passato i tempi molto difficili e vorrei dirvi che c'è un sito oppure uneski.engineer dove è possibile vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 45 anni di lavoro del signor nato di uneski al quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro e allo stesso tempo in questa fase del suo sviluppo anche l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati attualmente le specialità più richieste e altamente pagate in cui il mio team è attivamente coinvolto e noi tutti allora gruppi e partecipanti di questo progetto sempre stiamo in via di sviluppo questi specialità che dà questa azienda la possibilità con minimi costi di essere certificata o certificato questo è un tramplino per noi tutti andare avanti e migliorare la nostra vita a maggior parte e ecco e allora in cui il mio team è attivamente coinvolto in questo tutto e allora questi progetti già sono realizzati allora personalmente per me è diventato così e allora tutto a posto e allora ok allora allora questo progetto avendo esperienza di comunicazione mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente dell'azienda UST che si è sviluppato in Francia Georgia Polonia Germania Spagna Italia Greco e Israele con l'aiuto del mio team in soli tre anni sono stati investiti oltre 35.000 dollari e tutto questo è successo grazie alla comunicazione online ecco ecco questi sono i diplomi che ho preso in questa azienda ecco puoi immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente in nulla c'era solo un'idea e il grande desinteressato lavoro del creatore di questo progetto ma comunque allora comunque lui stava facendo il suo lavoro allora è sua missione è suo mestiere lui non ha tradito mai personalmente la mia storia è circa di successi e progressi con gli insegnamenti in azienda ho raggiunto lo status di master perché è un'azienda in una in via di sviluppo e il nostro sviluppo è necessario insieme alle tecnologie del futuro quindi lo sviluppo tecnologico non si ferma mai e noi dobbiamo andare avanti insieme il trasporto è una cosa molto importante che il trasporto esiste davvero si adatta a tutte le condizioni climatiche e il suo corpo è resistente alle radiazioni ecco tutti le condizioni climatici sono visibili dove sono realizzati questi progetti l'atmosfera è pulita e comodità senza voce può muoversi e non disturbe con il suo rumore nessun umano allora il suo corpo è resistente alle radiazioni e converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità così minimizzando la voce quasi senza allora i termini trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore in 24 ore rispetto ad altri trasporti già esistenti e in termini di inquinamento siamo a zero sostanze nocive e quindi nessun danno per la natura non esiste e non usa nessun gasolio i termini di incidenti è il più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli esistenti ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi dei veicoli che necessitano di consumo sono trasporto marittimo trasporto terrestre e trasporto aereo e allora tutti questi tre causano sempre inquinamento della natura e UST fa parte di un gruppo anche di aziende proprietarie delle proprie aziende che nell'implementazione delle tecnologie innovative di UST includono una gamma completa di attività tra cui e tra qui aziende di iniezione completamente avanzata la propria impresa con una vista esperienza nella produzione dei veicoli e allora ancora e ancora sarà più disponibile realizzare questo progetto dappertutto in tutte le parti non solo in Italia per esempio in Turchia l'anno passato novembre era firmato un progetto che già stanno realizzando e preparando i lavori dove deve essere realizzato e ecco allora Skyway è un trasporto unico che salverà la vita ai milioni di persone centinaia e di migliaia di ettari di paesaggi e di animali e uccelli che permetterà loro a ciascuno quindi solo signor Anatoi Uneschi penso che non riuscirebbe da solo niente ma insieme tutti noi tutti investitori possiamo allora insieme realizzare dappertutto sulla nostra pianeta e salvare quindi allora anche alla fine non vi posso non dire i nostri profitti allora quando decidi entrare nella nostra azienda puoi registrarsi e sulla tua pagina si apre per te sarà disponibile tutta l'informazione e puoi trovare e guardare tutte le allora aprire tutte le finestre che sono disponibili per te e trovare da vicino anche i tuoi diritti puoi leggere tutto lì e dopo il completamento di verificazione puoi diventare un investitore però non è necessario anche essere un investitore solo che a volte per un anno basta avere questa informazione che qualcuno sta cercando fare una cosa molto bella per gli altri che se qualcuno ci pensa noi siamo più forti penso che è così e allora i nostri profitti sono questi allora dobbiamo aspettare i ratei i dividenti e questo sarà velocemente quindi noi non stiamo aspettando tal 2014 per andare sulla fase quindicesima sì già stiamo in una fase che si completa e dopo stiamo allora sul mercato mondiale allora possiamo guadagnare dal programma di partner possiamo avere o dare l'ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro possiamo avere e diventiamo con proprietari di tecnologie innovative e anche insieme con questo partecipiamo a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu e passiamo alla storia anche come fino a troppo e creiamo capitali per una vita sfensierata abbiamo la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai e attestiamo attestando di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite noi possiamo migliorarci tempo per tempo il valore nominare del nostro acquisto è direttamente proporzionale al numero delle nostre azioni quindi per esempio se avrai 300.000 azioni un milione azione allora è giusto e direttamente è proporzionale con i dollari anche per oggi e allora ciò che è importante per te che alla fine c'è ancora la possibilità di unirti in questo progetto ambientale e più globale unico e senza precedenti cambiare la tua vita in meglio ti consiglio ancora orgogliosamente come vi ho detto già qualche volta che è un progetto è molto necessario per la nostra pianeta invece non è possibile quindi tutti i trasporti tempo per tempo diventeranno ecologici ecologici e allora se qualcuno può allora sostenere questo progetto diventare un membro di questa azienda sarà una bella cosa nella sua vita e cambierà la storia umana la maggior parte penso che non esistono tante cose che ti daranno così allora possibilità di fare cose belle così globalmente ecco allora vediamo questo è un tabello dove ci sono visibili i costi operativi per costruire questa linea di stringa allora richiedono meno denaro l'inquinamento ambientale siamo al zero ancora quindi non esiste nessun danno per la natura e a livello di incidenti stradali non ci sono praticamente fisicamente evita tutti i veicoli già esistenti sulla strada in acqua o in l'aria ecco questa era un'azienda Unitskistric Technology e con le sue offerte opportunità e io sono stato attratto dalla qualifica di investore leader speaker curatore regionale in Italia mediatore europeo interculturale vi auguro una vita bellissima per domani svegliarsi in un mondo migliore allora vi saluto saluti a tutti arrivederci